Lo spagnolo Orghe Lorenzo ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca, una dicesima prova delle moto mondiali 2015. Partenza sprint dello spagnolo che brucia Marquez, partito col secondo tempo, e non molla più la presa per l'intera gara. Però Valentino Rossi partenza non proprio alle sue aspettative, si deve accontentare di un terzo posto deludente. E soprattutto il distacco con Lorenzo nella classifica mondiale piloti è stato risucchiato, portando l'Imerico in prima posizione insieme al dottore a quota 111 punti. Prossimo appuntamento a fine mese in Gran Bretagna. La stagione 2015-2016 di Speciale News si presenta particolarmente importante. La testata web tv diretta da Mimo Siena si presenta ai suoi telespettatori con importanti novità e soprattutto di informare a 360 gradi. Partendo dalle edizioni del telegiornale, le due consuete, quella del mattino con Nuovo Giorno alle 9 e poi i fatti del giorno nella edizione della sera alle 19. Ogni fine mese ci sarà l'appuntamento con servizi speciali, un approfondimento giornalistico dedicato agli eventi della città di Cerignola e non solo curato dalla nostra redazione. Nel caso di eventi di grande importanza, appuntamento con le edizioni straordinarie ed ultimura. La parte più inimportante sarà quella dello sport con un intenso programma partendo dall'ETG sportivo Sport Report ore 13 che andrà in onda dal lunedì al venerdì con la panoramica quotidiana di tutti gli eventi dello sport. E poi nel fine settimana i tradizionali appuntamenti. Il settimanale sabato alle 13 per la presentazione della giornata sportiva con calcio, basket e volley. La domenica alla stessa ora con i risvolti del sabato con interviste e servizi per proiettarci uvi sulle gare domenicali. E poi il lunedì alla giornata con l'approfondimento completo sui fatti del weekend domenicale. E poi l'appuntamento con diretta basket che sarà primario per il campionato di Segheci Silver con l'attenzione per le due squadre Olimpica Basket ed Allianz Udas. Doppio appuntamento con orario da definire per il sabato e per il lunedì. Con speciale news il cuore dell'informazione a 360 gradi serve. Enesima tragedia del mare per quanto riguarda il fronte dell'immigrazione. 40 persone sono morte su un barcone soccorso a largo della Libia da una nave della marina militare. I cadaveri erano stipati e chiusi nella stiva. Bisognerà capire se le vittime sono morte per il caldo o per i fumi del motore del barcone. La nuova tragedia di oggi, ha detto il ministro dell'interno Alfano, non è l'ultima se non si risolve il problema della Libia. Sono 103.000 i migranti sbarcati in Italia dal 1 gennaio ad oggi. Un migliaio in meno rispetto al periodo dello scorso anno. Un migliaio in meno rispetto al periodo dell'immigrazione. 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 Grazie a tutti.